Allora torniamo a Sant'Arcangelo. Nino Pedretti, Raffaello Baldini e adesso Tonino Guerra. Questa mattina mio fratello cercava qualcosa nei cassetti. Ha frugato nell'armadio, nelle tasche delle giacche, dei cappotti e con la testa e le mani nel comò ha tirato fuori tutto. Ha messo sottosopra anche la cucina. Passava da una camera all'altra senza vedermi. Quando si è messo a rovistare nel mio letto allora gli ho chiesto che cosa vuoi. Non lo so. Prima cercavo un chiodo, poi un bottone, dopo volevo farmi un caffè. E adesso ho voglia che tu mi dica qualcosa, magari una sciocchezza.